Cosmari Fasanelli assente a Striscia, Michelle Scotti, speriamo possa tornare presto. Cosmari Fasanelli, causa indisposizione, è stata costretta a fermarsi temporaneamente. Ieri l'Avelino Mora di Striscia la notizia ha lasciato il posto a marcia Terezza Araujo Barros. Volto di paperissima, a causa di un problema non specificato. La giovane ballerina. Ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio sui social nelle ultime ore per ringraziare Michelle Unzichere Geriscotti per il pensiero a lei rivolto durante la puntata del TG Satirico. Mi mancate già tanto, non vedo l'ora di tornare, le parole tra le stories di Instagram. Durante la puntata di Striscia la notizia ieri, venerdì 28 aprile, i conduttori del TG Satirico Michelle Unzichere e Geriscotti hanno rivolto un pensiero a Cosmari Fasanelli, mandiamo un bacio alla nostra Cosmari con l'augurio che possa riprendersi molto presto. Le parole della presentatrice, da poco diventata nonna, speriamo possa tornare al più presto aggiunto Geriscotti. La ballerina Evelina Mora ha commentato l'omaggio attraverso le sue IG di stories, mi mancate già tanto, non vedo l'ora di tornare. Grazie. Anche con un post su Instagram ha spiegato che è stata costretta ad assentarsi sottolineando che presto tornerà sul bancone che condivide insieme Anastasia Ronca, purtroppo oggi non sarò presente ha scritto ieri sera ma mi sto riprendendo e tornerò presto dalla mia seconda famiglia. Un grande in bocca al lupo alla mia socia Anastasia Ronca e a Marcia Terezza Araujo Barros, vi guardo da casa. Con un comunicato Striscia la notizia ieri pomeriggio ha fatto sapere che Lavellina Mora si sarebbe assentata a causa di un'indisposizione. Sta bene, in attesa di tornare a Striscia seguirà il programma da casa, le parole. Al suo posto Marcia Terezza Araujo Barros, modella italo-brasiliana, 24 anni. Chi ad ottobre ha debuttato con Paperissima Sprint accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e a Gabibu.